Salve a tutti. Il gioco che vi presenterò oggi per la rubrica Random Gameplay è Ser You Are Being Hunted, un gioco che ho trovato in modo del tutto fortuito sulla wikipedia inglese cercando altri titoli che utilizzano la generazione procedurale e di cui mi sono subito innamorato, tanto che presto finirà nella mia rubrica di Steam. Se attendevate il seguito della mia ultima griffata non preoccupatevi, arriverà dopo questo video a cui ho deciso di dare la precedenza. Ma cos'ha di così bello questo gioco ancora in fase alfa? Beh, a praticamente tutto quello che io mi aspetto debba avere un titolo di questo tipo. In primi su un mondo interamente generato casualmente, è in secu di su un gameplay estremamente coinvolgente, ma il ripetitivo è che non dà un attimo di respiro. Come potete vedere, si gioca in una visuale in prima persona, ma questo non è un FPS. L'obiettivo è infatti raccogliere i pezzi di una macchina che sono andati dispersi in giro tra il mondo di gioco in seguito a un incidente avvenuto nel laboratorio del protagonista. Tutto questo sopravvivendo sia in amici che alla fame, come in un classico survival, ma presto vedrete che non è solo questo ser you are being hunted. In pratica la storia, descritta nel breve prologo iniziale è questa. Il protagonista nel suo laboratorio crea una macchina, ma qualcosa da storto e questa si autodistrugge, catapultando il suo creatore in uno sperduto arcipelago dell'Inghilterra. L'unico modo per tornare a casa è ricomporre la macchina raccogliendone tutti i pezzi e portandoli alle pietre che si vedono nello span iniziale. Ma purtroppo le cose sono ben peggiori di quel che sembrano. Infatti l'arcipelago è popolato da robot che, vestiti con abiti presi direttamente dall'epoca vitoriana, si divertono a cacciare gli esseri umani per sport. In un modo che ricorda la caccia alla volpe fatta dalla nobiltà inglese. Ovviamente il vostro avversario è molto più potente di voi, quindi, cosa che amo molto in questo gioco e che ameranno anche i giocatori di titoli come Metal Gear Solid, è estremamente importante non farsi vedere dal nemico. Farsi beccare infatti, se non sia rapidi nello scappare e nell'evitare di essere circondati dai cacciatori, equivale a morte certa. Inoltre sia nel cercare i frammenti, così come nel procurarsi cibo, armi e altri beni di prima necessità, è importante anche l'esplorazione. E dato che l'intero mondo è generato casualmente a ogni partita, sia le risorse sia i nemici e anche i frammenti della macchina saranno sempre in posti diversi. E questo assicura una notevole longevità e rigiocabilità al prodotto. Inoltre, come già detto anche per Soldier of Fortune 2, il fatto che i nemici sono sempre in posti diversi fa aumentare l'adrenalina a mille, in quanto non è possibile prevedere nulla in questo gioco. Un altro elemento importante per vincere è sfruttare adeguatamente i rumori. Ad esempio come vedete qui. Lanciando una bottiglia vuota o un sasso infatti posso attirare i nemici in una determinata zona e poi attaccarli silenziosamente con l'ascia alle spalle. Nel gioco, il fumo bianco che si leva su dal terreno è sinonimo della presenza di un frammento della macchina. Mentre questi all'inizio non sono sorvegliati dai robot, andando avanti nel gioco spesso questi metteranno delle squadre a proteggerli. Squadri che dovete far allontanare dalla zona o far fuori se volete impossessarvi del bottino. Nella storia i frammenti fumano perché la macchina durante l'incidente si è surriscaldata parecchio. Ogni volta che vedete del fumo ricordatevi sempre di osservare col binocolo la zona dalla distanza per scovare eventuali cacciatori e non arrivare impreparati. I rumori inoltre possono anche farvi capire se ci sono robot nelle immediate vicinanze, ma possono ovviamente anche allertare il nemico se li provocate involontariamente, ad esempio spaventando uno stormo di uccelli. Inoltre è anche importante diminuire la propria visibilità, ad esempio accovacciandosi nell'erba alta o stando dietro agli ostacoli. L'indicatore visibility in basso a sinistra mostra quanto siete visibili. Se come adesso, cioè a zero, potrete andare anche a un metro da un robot e farlo fuori silenziosamente con l'ascia. Ma attenzione! Fatelo alle sue spalle o vi beccherà comunque. Un buon metodo per riuscire in questo intento è appunto far rumore davanti a voi lanciando un oggetto, in questo modo vi daranno sicuramente le spalle. Ecco fatto! Con la squadra eliminata il frammento è mio! E grazie anche per il fucile! Porca miseria mi hanno beccato! Scappa scappa cazzo! Con questo fucile di certo non posso farli fuori tutti! Anche perché ci vuole un intero caricatore per ammazzarne uno dalla distanza e, come tutti i fucili dell'Ottocento, è stra impreciso. Ecco! Ho perso! Ora vi mostro un altro simpatico amichetto robot. Il cagnolino Fuffi! Quando una squadra in pattuglia è accompagnata da questo stronchetto è molto difficile sfangarla. Questo perché purtroppo il suo fiuto è in grado di beccarvi ovunque. Comunque lui non vi ammazza di solito, solitamente da bravo piccolo sadico vi immobilizza con le sue mascelle e fa poi fare il lavoro sporco ai fucili dei cacciatori. Conte inerme, con la visuale in prima persona a farti godere lo spettacolo è circondato da dieci robot negri iperdotati che ti impallinano a sangue a turno fino ad ammazzarti. Ah, parlando di sangue. Sia le mascelle di Fuffi sia le fucilate benassestate vi faranno sanguinare. Quando sanguinate perdete punti salute finché non usate una benda. Se sanguinerete un'icona a forma di goccia di sangue lampeggerà in basso a sinistra dello schermo per avvisarvi. In teoria, secondo la wiki del gioco, il modo migliore per liberarsi di Fuffi è salire sopra una staccionata o una siepe e spaccargli la testa con la sha o con un proiettile, tutto questo ovviamente senza farvi beccare dai robot. Se ci riuscite siete dei grandi. Poi, oltre ai cacciatori e ai loro mastini, i nobili robot non vadano a spese pur di ammazzare umani. Un altro nemico bastardo è questa dannata mongolfiera. Compare la notte sempre nei momenti più di merda e, col suo dannato faro, si mette a scandagliare il terreno alla ricerca di carne viva. Quando poi ti trova segnala con un allarme ai cacciatori vicini la tua presenza e incomincia a seguirti. Se non ci scappi in fretta, sei fottuto e contro di lei nascondersi nell'erba è assolutamente inutile. Inoltre è invincibile colpire col fucile la robot che la guida, infatti non ne ferma l'operato. Per fortuna ce n'è al massimo una per ogni isola. L'ultima tipologia di robot è questo mastodonte che, andando avanti nel gioco, fa la guardia ai villaggi di roccati. Come vedete posso girargli intorno a piacimento e non mi fa nulla, ma se provo a rubare anche un solo topo morto nelle case si metterà a cacciarmi. Se ti becca è bene scappare perché è fortissimo. A punti salute elevati, è armato con un revolver che ha sei colpi di capienza ed è immune alle trappole. Il team di sviluppo ha detto che in futuro i vari robot si scontreranno fra loro e questi sceriffi faranno fuori anche i cacciatori se li vedranno. Potrebbe essere una buona idea usare questi scontri per agire indisturbati o ad ottenere munizioni e armi facilmente, ma se ti vedranno, i cacciatori cambieranno tutti bersaglio. Nelle case abbandonate poi, a complicare il tutto, oltre a cibo, armi ed oggetti utili per fare rumore, ci sono un sacco di cianfrusaglie così come oggetti dannosi, come per l'appunto i ratti morti. Quindi, se non si vuole l'inventario pieno di merda, è bene fare cernita, ovviamente con quel vestione alle spalle. Gli oggetti dannosi, di solito, se mangiati fanno perdere vitalità. Se la vitalità scende sotto 60, i punti salute non si generano più, se va ancora più sotto morirai di fame. Alcuni cibi poi, come i funghi rossi e gli alcolici, portano in trip il protagonista, pur aumentando la vitalità. Quando si è in trip è più difficile controllare il personaggio e guardarsi intorno. Gli oggetti per fare rumore, oltre ai sassi e alle bottiglie, che spesso contengono anche liquidi commestibili, includono il trombone, le sveglie, i trenini, eccetera eccetera. Ogni oggetto ha proprietà uniche nella genesi del rumore e nell'uso. Se poi trovate anche selvaggina e fiammiferi, potete ottenere della carne cotta cucinandola in un fuoco da campo. Ma attenzione, il fuoco attira i robot. I punti dove appiccare i falò sono localizzabili perché emanano fumo nero. Ed eccovi qui un perfetto uso di una trappola. Attacco decisamente poco stealth ma devo dire efficace. Ascia a me. Le trappole per essere recuperate richiedono uno speciale attrezzo che non ho, quindi a malincuore sono costretto a lasciarla qui. Con la dinamite in realtà potete fare fuori anche più robot assieme, è una delle poche armi che lo permette. Ora sono su un'altra isola dato che ho raccolto tutti i frammenti che c'erano nell'isola principale. Ricordatevi poi che potete salvare il gioco solo alle pietre dello spam iniziale e quando prendete una barca. E ricordatevi di farlo spesso perché se venite ammazzati ricomincerete solo dall'ultimo salvataggio. Ora comunque ho di nuovo un fucile. Un'altra rottura per quanto riguarda i fucili ottenibili dai cacciatori uccisi è che a volte ve li ritroverete rotti, e quindi inutilizzabili. Questo accade specie se ammazzate un nemico con l'ascia. D'altro canto, se avete già un fucile e ne trovate un altro, a ogni nuovo ritrovamento integro non otterrete un nuovo fucile in inventario ma due nuovi proiettili. Oltre a dinamite, a ritolvere fucile, esiste anche un fucile a lungo raggio, ma è raro. Per concludere, il lato bello di questa alfa è soprattutto uno. A parte alcuni crash durante il caricamento del mondo che si verificano solo filmando con Fraps, non ho trovato bardegni di nota. Detto questo, arrivederci alla prossima.